Siamo a Treviso, alla casa di Cararesi, in una mostra della DEM che si intitola Art Ambassador e siamo davanti all'artista Marco Kerigme che ci presenta due sue opere di netta ispirazione scientifica, nel senso che questo artista ha avuto modo di sperimentare in tutti questi anni, tutto un percorso che va dalla spiritualità alla scienza, un percorso inverso se vogliamo pensare perché abbiamo visto tante volte un percorso appunto contrario a questo, molto interessante, bisogna capire un attimino le intenzioni, bisogna capire la direzione netta che vuole dare questo artista. Ecco, io vorrei chiedere a Marco se in qualche maniera è così precisa, attenta l'attenzione alle nuove scoperte, alle tendenze della fisica contemporanea oppure c'è un volare un po' alto prendendo un po' a spunto più che altro? Sì, diciamo la seconda è più uno spunto che mi dà lo studio della fisica quantistica recente, degli ultimi 15 anni, però vista dal lato della mia coscienza, quindi la mia visione di queste ultime scoperte. Qui ad esempio abbiamo la memoria dell'acqua che è una scoperta fatta ancora negli anni 80 da Jacques Benveniste che era stata boicottata, che era stata mal vista e adesso dopo vent'anni si scopre che ha il suo fondamento di verità e nel giro dieci anni sarà cosa comune, presumo. Sì, però ci sono due punti di riferimento, la spiritualità, le ultime quasi scoperte della fisica e però c'è una terza cosa in mezzo che si chiama la tecnica artistica con cui tu ti esprimi. Allora io vedo che fai anche uso di materie, cioè la tua è una evoluzione molto articolata della base pittorica. Sì, è olio su tela, però dato in maniera un po' particolare, io uso dei pezzettini di spugna, poi rifinisco con i coton fioc e poi utilizzo anche la colla vinilica con sopra una vernice che gli dà questo effetto. Queste sono cose che interessano molto ad altri artisti. E' una tecnica che faccio solo io credo perché è molto certosina, è molto lenta. Però questo è una cosa, vedi, tu ti interessi di spiritualità, ti interessi di scienza e in pratica modo sono due argomenti liberi dove tutti si avvicinano, incontrano i materiali. Sarebbe ridicolo, sbagliato, che un artista avesse delle gelosie per le proprie tecniche, i propri materiali, non è il tempo e non è neanche la tua vocazione. Ecco, quindi vedete che è abbastanza interessante questa cosa, un artista che mette insieme discipline apparentemente distanti utilizzando una tecnica che è in qualche maniera anche quella portatrice di alcune novità, alcuni interessi. Ecco, allora io direi che questo Marco Carigma è un artista da seguire. Grazie. Grazie.